La procura di Ragusa ha fermato il presunto autore del delitto, Reo Confesso. L'omicidio di Ivana Inglese e il postino vittorioso ucciso nel settembre del 2012 rimane irrisolto. Il jeep di Ragusa ha infatti archiviato la posizione di quattro indagati, due romeni e due vittoriezzi. Operazione della Guardia di Finanza di Ragusa sabato scorso al mercatino settimanale di Vittoria. Obiettivo la tutela del made in Italy e dei consumatori, sequestrati circa 2000 prodotti. Un foglio con delle minacce scritte con ritagli di giornale è giunto nei giorni scorsi a quattro assessori a Catesi. Gli stessi insieme al sindaco Raffo hanno voluto replicare ribadendo il loro impegno. Domani anche la città di Vittoria celebrerà la giornata della memoria contro l'Olocausto e le foibe. Le varie iniziative si svolgeranno all'insegna dello slogan mai più vittoria contro la barbarie. Ben trovati all'appuntamento con la nostra informazione. Come avete sentito dei titoli? Dunque è giunta ieri sera la svolta nelle indagini sull'uccisione del vigile del fuoco. Giorgio Seiland ha assassinato mentre rientrava a casa domenica sera. La procura di Ragusa ha fermato il presunto autore del delitto, Filippo Assenza, 56 anni, commerciante di ortofrutta che risiede a Londra. L'uomo ha confessato. Era geloso della moglie che sospettava avesse una relazione con la vittima. A poche ore dall'omicidio di Giorgio Seiland, il vigile del fuoco freddato in auto mentre stava facendo rientra a casa, polizia e carabinieri hanno chiuso il cerchio su un sospettato che ieri sera, messa alle strette, ha confessato. Si tratta di Filippo Assenza, vittorese incensurato, commerciante di prodotto ortofrutticole dalla Sicilia a Londra dove risiede con la famiglia. L'uomo avrebbe ucciso il vigile del fuoco perché geloso della moglie che sospettava avesse una relazione con la vittima. Filippo Assenza è stato identificato grazie ad alcuni dati incrociati tra le immagini della sua auto e i tabulati telefonici dove gli inquirenti avrebbero rinvenuto dei messaggini a conferma dei rapporti tra moglie di assenza e Giorgio Seiland. Il presunto omicida ha quindi ucciso con un fucile a pallini il vigile del fuoco per motivi passionali, una gelosia folle estrema che ha pervaso la mente del commerciante emigrato a Londra il quale avrebbe deciso di eliminare quello che riteneva il rivale in amore. Domenica sera si è quindi appostato sotto casa, ha atteso l'arrivo di Giorgio Seiland e quindi, prima che l'uomo scendesse dall'auto, lo ha affreddato con un colpo di fucile in pieno volto. Intanto stamani è stata effettuata l'autopsia sul cadavere disposta al sostituto procuratore. Non si esclude che il magistrato possa autorizzare la restituzione della salma ai familiari per la giornata di domani, giorno previsto per i funerali. Intanto, riferendosi all'omicidio del vigile del fuoco Giorgio Seiland, il sindaco Giuseppe Nicosia ha espresso cordoglie e rabbia per l'ennesimo fatto tragico che addolora la città e miete un'altra vittima delle armi e della violenza. Quando ci affrancheremo, continua il sindaco, da questa violenza e da questo atroce uso delle armi, quando la città potrà respirare area di civiltà e di normalità, quando la stragrande maggioranza di cittadini onesti potrà dirsi tranquilla e sicura rispetto ai pochi che ancora preferiscono la violenza alla ragione e alla pacifica convivenza. Questa città, dice ancora, merita di essere liberata dalla condizione di insicurezza in cui una minoranza violenta la vuole continuare a relegare. Non mi rassegnerò mai ad amministrare e vivere in una città senza un maggiore impegno per la sua crescita sociale, civica e legale. Parliamo ancora di un omicidio, ma questa volta dell'omicidio di Ivano Inglese. Il Postino, vittoriese ucciso nel settembre del 2012, il delitto rimane irrisolto. Il GIP del Tribunale di Ragusa ha infatti archiviato la posizione di quattro indagati, affermando che non ci sono elementi idoni a sostenere ancora l'accusa di omicidio. Non ci sono elementi idoni a sostenere l'accusa di omicidio nei confronti degli odierni indagati. Con questa decisione, il giudice dell'indagine preliminare del Tribunale di Ragusa, Andrea Reale, ha sciolto la riserva assunta lo scorso dicembre in merito alla posizione di quattro indagati per l'omicidio di Ivano Inglese, il postino partame 32enne di Vittoria, omicidio avvenuto il 20 settembre del 2012. Il magistrato sostiene che non ci sono appunto elementi utili a sostenere l'accusa nei confronti di due fratelli agricoltori vittoriesi e dei due braccianti rumeni. Resta il mistero quindi sulla sparizione del marsup e dei telefonini del giovane. Il fatto di sangue, come è noto, destò grande impressione in città in quanto Ivano Inglese era un giovane come tanti, normale nelle abitudini lavorative in famiglia, ben voluto da parenti e amici, venne trovato senza vita nei pressi di un impianto serricolo incontrato a Pozzo Ribaudo. Le indagini accertarono che il giovane cercò di fuggire per evitare la morte, ma venne inseguito e ucciso con dieci colpe di pistola calibro 7,65 al torace, inconsolabili e distrutti da quel tragico giorno i genitori che hanno chiesto di recente inutilmente nuove indagini. Invece il giudice ha deciso per l'archiviazione del caso. Operazione della Guardia di Finanza sabato scorso al mercato settimanale di Vittoria a tutela del Made in Italy e dei consumatori. Circa 2.000 prodotti contraffatti sequestrati e due senegalesi denunciati. Nella mattinata di sabato scorso gli investigatori del nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ragusa hanno concluso un'importante attività a tutela dei consumatori e del Made in Italy presso il mercato settimanale di Vittoria. Gli interventi hanno permesso di portare a termine tre distinti sequester di prodotti contraffatti che erano esposti per la vendita al pubblico su bancherelle del mercato. Sono stati sequestrati complessivamente 654 prodotti reganti marchi contraffatti riconducibili a prestigiose Maison della moda, nonché 1.404 supporti informatici contenenti giochi e film illecitamente riprodotti, alcuni di recente diffusione nelle sale cinematografiche. La merce contraffatta è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa delle previste perizie tecniche per essere successivamente distrutta. Il servizio si è concluso con la denuncia di due commercianti senegalesi per contraffazione e pirateria audiovisiva. La fabbricazione e la vendita di prodotti contraffatti costituisce una notevole forbice economica del mercato illegale, non solo per tutelare il commercio legale cui vengono sottratti i clienti, ma anche per contrastare l'evasione fiscale e altri reati finanziari connessi. Il fenomeno della contraffazione continua purtroppo a non essere percepito da molti acquirenti come elemento dannoso per l'economia, dimenticando i danni per la salute e la sicurezza dei consumatori, considerata la pericolosità e nocività dei prodotti utilizzati per la fabbricazione degli stessi. La Commissione Affari Generali del Comune di Vittoria ha esitato ieri lo schema del regolamento del mercato ortofrutticolo. Mi preme rivolgere un elogio particolare, ha dichiarato il Presidente della Commissione Giulio Branchetti e i componenti della stessa Commissione, per aver esitato celermente l'importante strumento di legalità e trasparenza. Un lavoro proficuo e puntuale per essere riusciti nella proposizione tecnica degli adeguamenti normativi e regolamentari. Si possono naturalmente apportare modifiche e accogliere suggerimenti con emendamenti da portare all'attenzione del Consiglio Comunale, ma noi del PD, conclude Branchetti, lavoreremo anche di notte se necessario per ottenere un voto più ampio possibile in sede di lavori consigliari. Un foglio con delle minacce è giunto nei giorni scorsi a quattro assessori a Catesi. Gli stessi, insieme al Sindaco Raffo, hanno voluto replicare, ribadendo invece il loro impegno e la volontà di continuare. Un foglio anonimo con ritagli di giornale è stato recapitato ai componenti della giunta del Sindaco Raffo e precisamente ad Isaura Matucci, Doroti Cultrera, Salvatore Licalzi ed Ettore Campagnolo. Questo è il messaggio. Dimettiti se è nella rete, il treno è partito. I quattro amministratori, insieme a Franco Raffo, hanno ribadito che non intendono piegarsi alle minacce nel corso di un incontro con la stampa svoltosi nei giorni scorsi. Un episodio ancora dei contorni oscuri, ma che turba, in qualche modo, la corretta e naturale attività della giunta. Vuole essere di contrapposizione a questi brutti episodi che si verificano perché non dovrebbero per niente esistere. Perché una persona che si impegna per la propria città dovrebbe, sicuramente è soggetto a critiche, ma dovrebbe essere libero di poter operare senza alcuna minaccia intimidatoria. Ribadiamo il nostro impegno anche perché noi crediamo che possiamo realmente realizzare qualcosa e a quanto pare siamo il problema per qualcuno. Il Sindaco Raffo si sente sottotiro e ha definito il gesto sconsiderato. Non ci fermiamo affatto, abbiamo la coscienza a posto, anche se stanno cercando di deviare o di completare il percorso dopo due anni che mi perseguitano colpendo il volto bello della politica, il sorriso, oserei dire, della politica, quella vera, autentica, persone giovani, intelligenti, coraggiosi, che hanno una grande voglia di cambiare il paese e di cambiare anche il modo di fare politica. Da qualunque iniziativa noi abbiamo intrapreso c'è stato subito un atteggiamento maniacale, persecutorio. Nel momento in cui si è diffusa la voce che volevamo fare di Acate e del Macello in particolare, la prima isola ecologica della Sicilia per risolvere in modo rivoluzionario il problema e la trasformazione dei rifiuti con la bonifica di tutto il territorio, subito denunce, sequestro del Macello. Gli accordi di libero scambio non favoriscono le imprese agricole, lo sostiene il presidente di Confagricoltura, Mario Guidi, il cui appunto è rivolto alla Commissione Europea. Siamo in piena sintonia con quanto sostenuto dal nostro presidente nazionale, rilevano da Confagricoltura Ragusa, ed è un passo che ci dovrebbe consentire una maggiore vigilanza verso le importazioni che mettono a rischio le nostre produzioni. L'ASP di Ragusa ha vinto un bando per finanziamenti europei per l'assistenza ai migranti. Il finanziamento ammonta quasi 2 milioni di euro, di cui circa 200 mila verranno erogati all'azienda sanitaria Iblea. Le azioni sono rivolte a sperimentare modelli di intervento e percorsi innovativi caratterizzati da un elevato impatto in termini di sanità pubblica ed efficienza. Per il direttore generale Maurizio Ricò è un successo che permetterà di usufruire di finanziamenti europei in un ambito nel quale Ragusa è certamente molto da insegnare. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, ma torniamo tra poco. Riprendiamo la nostra informazione partendo da Gela, che oggi si mobilita e scende in piazza per lo sciopero generale proclamato dal Consiglio Comunale in difesa della sua unica consistente realtà produttiva, la raffineria dell'ENI. 50 anni di industria, anche se ridimensionati dalla crisi, vengono messi in discussione dai ritardi della politica e dal mancato rilascio delle autorizzazioni ministeriali per la riconversione degli impianti, che, abbandonato il petrolio per scelta strategica, dovrebbe portare alla produzione di biocarburanti grazie a un protocollo che prevede investimenti ENI in Sicilia, confermati ieri sera dall'azienda, per 2,2 miliardi di euro. Assieme ai lavoratori dell'Indotto e del Diretto, che da otto giorni con le bandiere di CGL Cisle Wille presidiano tutte le vie di accesso alla città, sono sfilati in corteo tutte le categorie produttive, i studenti, i professionisti, i pensionati, i sindaci dei comuni del comprensorio e anche il clero gelese, chiuse le attività commerciali e artigiane. Da domani anche la città di Vittoria celebrerà la giornata della memoria contro l'Olocausto e le foibe all'insegna dello slogan Mai più Vittoria contro le barbarie. Le varie iniziative si concluderanno il 10 febbraio. Si chiama Mai più Vittoria contro le barbarie, incipit per definire la manifestazione promossa all'assessorata alla cultura, giunta alla seconda edizione, ossia la festa della memoria, dal 27 gennaio al 10 febbraio e si articolerà in un programma di vaste iniziative che comprendono manifestazioni teatrali, musicali e cinematografiche, tutte rivolte prevalentemente ai giovani e non solo. Ripercorrendo le tragiche vicende dell'Olocausto e delle foibe, ha spiegato l'assessore Gaetano Bonetta, si tenterà di tenere alta nella memoria collettiva, specie giovanile, i fatti storici e i fenomeni politici e morali che portarono alla negazione all'annentamento di milioni di uomini. Pertanto l'amministrazione comunale con questa iniziativa vuole non solo ricordare quei tragici avvenimenti, ma fare anche in modo che nella cultura diffusa in ogni cittadino sia presente la conoscenza delle cause che portarono a tanta distruttività umana. Quindi vuole fornire anche gli strumenti, prosegue Bonetta, per una matura costruzione di giudizio personale e critico sulle vere cause della tragica storia italiana ed europea degli anni 40 del secolo scorso. Da qui l'obiettivo educativo dello slogan mai più vittoria contro le barbarie per sottolineare le grandi conquiste del pluralisme della democrazia sociale e culturale insostituibile humus, conclude Bonetta, per la libera e creativa espressione umana in tutte le sue potenzialità. Bel gesto di solidarietà ieri a Scoglitti, l'Anfas ha ricevuto dal presidente della biliardo Sicilia, Carlo Cascone, un buono spesa. Per i dirigenti dell'associazione scoglittiese si tratta di un bel gesto di solidarietà inatteso che ci conforta e gratifica. E la consapevolezza che siamo circondati da persone così partecipi e disponibili rafforza, dicono ogni giorno, la nostra voglia di lottare stimolandoci continuamente a cercare un futuro. Famiglia e lavoro sono valori inscindibili, lo sostiene la Fondazione San Giovanni Battista Ragusa, tra i pochi enti in Italia a godere della certificazione Family Audit. E ieri sera si è celebrato un momento di incontro proprio per fare il punto sulle prossime attività. Conciliare il tempo del lavoro con quello della famiglia, questo è l'obiettivo che si pongono le realtà lavorative certificate dal marchio Family Audit. E sono pochi in Italia queste realtà, appena tre dalla Puglia in giù e una di queste è la Fondazione San Giovanni Battista, braccio operativo della diocesi di Ragusa, che ieri sera ha celebrato un momento di incontro con i propri dipendenti con l'obiettivo di condividere la programmazione delle attività del 2016 e fare il punto su quelle del 2015 appena trascorso. E tra le iniziative di cui si è discusso anche la consegna delle borse di studio per i figli dei dipendenti. E comunque ha spiegato Tonino Solarino, presidente alla stessa fondazione, siamo al momento in una fase di sperimentazione che ci pone controcorrente rispetto a molte altre realtà di imprese nel rispetto delle politiche familiari. Come cattolici, dice Solarino, avvertiamo un motivo in più per proseguire in questa direzione, credendo nell'importanza di incontrare periodicamente i nostri dipendenti per condividere con loro progetti e risultati. E i risultati sono sicuramente gratificanti, dice Solarino, come ad esempio le 200 persone richiedenti asilo che abbiamo ospitato nei nostri centri e con circa 80 volontari giunti da tutta Europa per sostenere il nostro impegno, per non parlare dei circa 100 volontari del Servizio Civile Nazionale Operativi assieme a noi. L'incontro si è concluso quindi con la consegna di un contributo economico erogato ai figli dei dipendenti e un piccolo segno ha commentato Solarino che vorremmo venisse impegnato per promuovere lo studio dei ragazzi e dunque il loro futuro. E ora un nostro annuncio si informano i soggetti politici in competizione per le prossime amministrative che questo emittente ai sensi della delibera emanata dall'autorità per le garanzie e nelle comunicazioni mette a disposizione spazi politici autogestiti a pagamento. Le modalità di accesso e quant'altro sono depositate nella sede dell'emittente con sede in via Medina De Riosecco 41 Vittoria telefono e fax 0932 98 39 13 per eventuali contatti chiedere del signor Roberto Ciaculli Seconda pausa pubblicitaria a tra poco Rivediamo insieme i fatti in primo piano Svolta ieri sera nelle indagini dell'uccisione del vigile del fuoco Giorgio Sailanta assassinato mentre rientrava a casa la procura di Ragusa ha affermato il presunto autore del delitto Reo Confesso Si tratta di Filippo Assenza 56 anni commerciante di ortofrutta residente con la famiglia a Londra L'uomo avrebbe confessato era geloso della moglie che sospettava avesse una relazione con la vittima da qui la scelta di assassinare il rivale L'omicidio di Ivana Inglese e il postino vittoriese ucciso nel settembre del 2012 rimane irrisolto il GIP di Ragusa ha infatti archiviato la posizione di quattro indagati due romeni e due vittoriesi A suo dire non ci sono elementi doni a sostenere nei confronti di queste quattro persone l'accusa di omicidio se non si apriranno nuove indagini quindi il delitto del giovane 32enne rischia di rimanere senza movente né responsabili Operazione della Guardia di Finanza di Ragusa sabato scorso al mercatino settimanale di Vittoria obiettivo la tutela del made in Italy e dei consumatori sequestrati circa 2000 prodotti in vendita capi d'abbigliamento con marchi contraffatti oltre 1000 DVD e CD contenenti giochi e film illecitamente riprodotti il materiale è stato sottoposto al sequestro e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per essere distrutto un foglio con delle minacce scritte con ritagli di giornale è giunto nei giorni scorsi a quattro assessori a Catesi gli stessi insieme al sindaco Raff hanno voluto replicare ribadendo il loro impegno non intendono quindi minimamente cedere alle minacce i quattro esponenti dell'aggiunta Raffo che come annunciato dallo stesso sindaco proseguiranno nella loro opera di rinnovamento della città a partire dalla gestione dei rifiuti domani anche la città di Vittoria celebrerà la giornata della memoria contro l'olocausto e le foibe le varie iniziative si svolgeranno all'insegna dello slogan mai più vittoria contro la barbarie diverse le manifestazioni organizzate dall'assessorato alla cultura retto da Gaetano Bonetta che puntano a ripercorrere quei tragici momenti per mantenere alta nella memoria collettiva specie giovanile i fatti storici questa edizione termina qui grazie per averci scelto arrivederci grazie per averci scelto